Il Catanzaro vuole il riscatto e non intende regalare nulla alla Lecce. Dopo lo sfortunato capo interno alla fotofinish contro la capolista, Aquile non disposte a perdere ulteriore terreno anche se prive di reali obiettivi di classifica e quindi vogliose di frenare i salentini di Bollini in lotta per i play-off. Gli ospiti, guidati dall'esperto bomber Davide Moscardelli, si presenteranno in Calabria con i freschi ex di Chiara e Scufia. Il centrocampista giallorosso Manuel Giandonato punta su una prestazione audace da parte della sua squadra. Manuel Giandonato, archiviata la gara sfortunata di domenica contro la Serenitana, ci si avvia alla seconda consecutiva gara casalinga come da calendario. Sabato il Lecce, che partita sarà? Sarà sicuramente una partita dura perché è una squadra che lotta per obiettivi importanti, però noi andremo sicuramente in campo come abbiamo fatto vedere con la Serenitana con una gran voglia, un gran spirito di sacrificio e un gran gioco. Siete usciti contro la Serenitana a testa alta per l'ottima prestazione fornita, in particolare voi dal centrocampo, con Zappacosta, con Giampà e con Mancuso. La vera forza del Catanzaro? La partita di domenica forse dice questo, però credo che la forza del nuovo Catanzaro è il gruppo. Recaminazioni e a parte la sconfitta contro la Serenitana per qualche punto perso in queste ultime giornate di campionato? Sì, c'è sicuramente l'amarezza di aver perso male a Savoia ed Aversa, che sulla carta erano due delle squadre più agevoli, però questo sta a conferma del fatto che in questo campionato non c'è nulla di scontato. La sconfitta contro la Serenitana vi darà maggiore carica sabato contro il Lecce. Comunque che insidie potrebbero nascere contro i Salentini? Ci dà sicuramente maggiore carica perché vogliamo andarci a riprendere qualcosa che ci è stato tolto. Contro il Lecce ci sono insidie portate dal fatto che loro hanno in organico giocatori importanti nel calibro di Miccoli, di Moscardelli, che possono magari essere in ombra tutta la partita e con una giocata risolverla. No, assolutamente abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, quindi saremo più agguerriti che mai e daremo filo da torcere a Lecce. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS